Il risultato elettorale di Agrigento vede andare al ballottaggio il candidato Francesco Miccichè e l'uscente sindaco Lillo Firetto. I dati ufficiali riportati sul sito del Comune non ancora definitivi, mancano solo quattro sezioni. Danno a Francesco Miccichè 10.056 voti pari al 36,65%, mentre all'uscente Firetto 7.970, pari al 27,77%. Gli altri candidati in sequenza vedono al terzo posto Marco Zambuto con 4.990 voti pari al 17,41%, a seguire Daniela Catalano che va con 2.877 voti pari al 10,4%, quindi Marcella Carlisi con 1.326 voti pari al 4,63% e infine Angela Galvano con 1.005 voti pari al 3,5%. Dando uno sguardo alle liste che sostenevano Francesco Miccichè hanno avuto il seguente risultato, la più forte è stata quella cambiamo rotta Francesco Miccichè sindaco, che prende l'11,76% con 3.233 voti, poi uniti per la città 2.498 voti pari al 9,89%, a seguire facciamo squadra con 2.093 voti pari al 7,16%, mentre Vox Italia si ferma al 2,18% con 599 voti. Le liste del sindaco Lillo Firetto vedono in destra quella denominata Andiamo Avanti che raccoglie l'8,47%, quindi Buongiorno Agrigento con il 6,97%, 1.918 voti, Agrigento rinasce il 5,9%, quindi Onda con 1.617 voti, il 5,88%, non raggiungono il 5% le altre liste. Noi che si ferma al 3,74%, Futura Agrigento arriva all'1,21%, Agrigento sostenibile con appena lo 0,44%. Le liste di Marco Zambutto vedono in testa Forza Italia con 11,40% e 3.135 voti, quindi diventerà bellissima, 1.597 voti con il 5,81%, mentre l'Udc si ferma al 3,87%, raccogliendo 1.065 preferenze. La lista di Daniele Catalano vedono in testa Fratelli d'Italia con 1.903 voti pari al 6,92%, quella di Daniele Catalano sindaco lo 0,5%, quindi la Lega che si ferma a 696 voti con il 2,53%, quindi ricordiamo Marcella Carlisi che arriva al 4,63% con 13.269 e le due liste che sostengono Angela Calvano, Agrigento e Movimento e Centopassi per la Sicilia, raccolgono insieme 1.005 voti pari al 3,51%. I candidati in assoluto che hanno raccolto più preferenze in queste elezioni sono stati in testa Marco Vullo con 739 voti, Pasquale Spataro con 672 voti, Teresa Nobile con 574 voti, Alessandro Sollano con 566 voti, Antonino Amato con 536 voti, Mario Silvio Fontana 487 voti, Simone Gramaglia 454 voti, Francesco Alfano 449 voti, Giovanni Civiltà 420 voti, Giorgia Iacolino 419 voti, Carmelo Cantone 417 voti, Davide Cacciatore 401 voti, Angelo Vaccarello 390 voti, Ilaria Maria Settembrino 376 voti, Tania Castronovo 365, Claudia Longi 344, Gerlando Piparo 327, Alfonso Giuseppe Mirotta 326, Flavia Maria Contino 306 voti, Antonio Detto Nino Costanza 305 voti, Giuseppe Detto Fabio La Felice 302 voti, Pietro Vitellaro 301 voti, Niccolò Amel 301 voti, Valentina Cirino 300 voti, Costantino Ciulla 300 voti, Carmelo Detto Leo Bruno 297 voti, Michele Mallia 294 voti, Margherita Brucculeri 293 voti, Roberto Battaglia 292 voti, Gioacchino Alfano al trentesimo posto con 291 voti. Intanto i primi eletti sicuri dovrebbero essere Gerlando Piparo con la Meloni, Marco Vullo e Angelo Vaccarella uniti per la città, Davide Cacciatore lista a Miccichè, Teresa Nobile e Alessandra Sollano lista collegata a Miccichè, Pasquale Spataro legata a Onda, Antonino Amato lista collegata a Firetto, Vitellaro Pietro lista collegata a Firetto, Nello Amel lista collegata a Firetto, Simone Gramaglia Giovanni Civiltà con Forse Italia, Claudia Longi diventerà bellissima, gli altri 11 arriveranno dal resse e dall'attribuzione dei seggi che si può stabilire solo quando si conosceranno gli eventuali apparentamenti che andranno fatti. Intanto la nostra emittente ha seguito ieri la lunga attesa dei dati con una trasmissione Fiume condotta in studio da Margherita Tropiano e Giovanni Tropiano e che ha visto impegnati in uno sforzo editoriale tutta la struttura televisiva sia redazionale che tecnica, un lavoro durato fino a tarda ora che dà continuità alla presenza di TVA come da sua tradizione aziendale quando ci sono appuntamenti elettorali importanti.